Pentesilea Pentesilea è un dipinto ad olio su ottone del 2018, un lavoro che in qualche modo sembra ripercorrere le mie antiche tecniche di carte realizzate su tela, con innesti di superfici diverse, ma plasmate in questo caso con l'olio. Cioè quella che sembra essere una pittura diretta, se ci si avvicina moltissimo al dipinto, si scopre essere in realtà una serie di frammenti di pittura d'olio che sono stati ricombinati, staccati e ricombinati successivamente, creando una sorta di mosaico che a distanza si perde, perché si fonde perfettamente con un primo palinsesto, una prima bosta dipinta direttamente sulla superficie. È un modo per attivare una freschezza del gesto che altrimenti sarebbe impossibile. Come dipingere su un vetro e scoprire all'improvviso che cos'è accaduto nel retro dell'immagine. Ecco, questi dipinti, questa serie di lavori, mette esattamente in scena una velocità, una freschezza di gesto che è stata scomposta e ricombinata.